Nuovo impulso allo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale nel campo della meccatronica e della robotica, grazie all'accordo rinnovato oggi al Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino. Nato nel novembre 2010 su iniziativa della provincia di Torino, oggi città metropolitana, che ne fu tra i promotori insieme all'Unione Industriale di Torino e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, il protocollo risponde a una doppia esigenza. Da un lato la scuola è sempre più consapevole della necessità di adeguare contenuti e metodi didattici ai giovani nativi digitali e al loro bisogno di imparare facendo in ambienti tecnologici avanzati. Dall'altro il tessuto industriale, dove il settore della meccatronica avanzata, dell'automazione e della robotica, ha sempre costituito la punta di diamante del Made in Italy torinese e del nostro export. Grazie a questo protocollo, in quattro anni, sono stati investiti più di 600.000 euro, provenienti da Camera di Commercio, Provincia di Torino, Regione Piemonte, Unione Industriale e AMB. La provincia ha stanziato più di 120.000 euro, grazie ai quali sono stati acquistati per tutte le scuole i robottini mobili Lego, utilizzati per le attività di orientamento verso le Medio Inferiori e per la didattica durante il primo Vienio delle Superiori e sono stati aggiornati i docenti dei 16 istituti scolastici coinvolti nel progetto. La parte prevalente delle risorse è stata utilizzata per l'installazione di sette celle robotiche Comau in altre tante scuole della rete, con l'obbligo di renderle disponibili per gli altri istituti. Perché la robotica? Perché il settore della meccatronica è il settore più importante del Made in Italy torinese. Un anno di crisi come il 2013 ha segnalato un export del 26% di tutte le esportazioni torinesi e quindi è la punta di diamante del nostro export e quindi è meritevole di essere oggetto di una particolare attenzione proprio nel rapporto scuola-lavoro. La riforma del Rio non fa che confermare dal punto di vista normativo un'attività, affidandoci alla delega la funzione fondamentale dello sviluppo socio-economico del nostro territorio, dicevo non fa che confermare una politica che la provincia di Torino, che l'amministrazione Saitta in particolare ha svolto in tutti questi anni. La robotica a scuola è uno di questi progetti importanti, ce ne sono stati tanti altri, condivisi con le istituzioni scolastiche, con gli state core del territorio, la Camera di Commercio, l'Unione Industriale e quant'altro, e con le imprese del territorio. Noi confidiamo che questa attività possa continuare, noi abbiamo delle grandi esperienze per la storia che rappresentiamo nel campo della robotica, noi crediamo di poter dire la nostra, di poter avere anche delle esperienze che possono essere messe a fattore comune, a disposizione di tutti, della nostra comunità in particolare. Però noi confidiamo che questo tipo di progetti possano continuare ad essere sviluppati, possono continuare ad essere elaborati e soprattutto finanziati. Grazie.